Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 21 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. L'estate fa guadagnare punteggio. Giornata del guadagno quest'oggi, da intendersi in senso pecuniario, con il sole e giove nel settore numero due, la banca dell'oroscopo, il denaro arriva copioso. Peccato che sotto tiro della luna spendaccione in sagittario, che vide stabilizza con un'opposizione, altrettanto velocemente i bigliettoni se ne vanno. Voraci anche a tavola, il piatto gustoso fomenta la golosità già insita nel vostro segno. Permesso accordato dalle stelle, godetevela, stasera alle 22.51 il sole cambierà stazione passando in Cancro, dove raggiunge Venere e l'amico Mercurio, facendo anche a voi un regalo, un super sestile, che già domani sera vi porterà in viaggio per un weekend tutto mare, amore e fantasia. Dolcezza nell'aria, parole e musica hanno un sentore di vaniglia, frammisto alla fragranza del gelsommino, quando anche il cuore fosse arido e restio, non ce la farebbe resistere all'invasione del sentimento e alla seduzione di una canzone, un regalo, un bigliettino eloquente. E un giovane professionista, militare, studente in cerca di sicurezza e futuro. Potreste incontrare un uomo giovane, serio, ma severo che guarda molto alla sostanza e ai benefici che può trarre per sé in ogni occasione. Se siete in coppia un giovane potrebbe interessarvi e causare litigi con il vostro partner. Se avete deciso di acquistare qualcosa, provate a rinviare l'acquisto, oggi se dovete formare qualcosa necessariamente accertatevi bene quello che firmate e le possibili implicazioni sulle vostre finanze. Negli ultimi tempi vi difettano coraggio e pazienza, anche la costanza non è il vostro forte in questi giorni e dovrete affrontare in giornata situazioni che ne richiedono tanta. Per chi vive una storia d'amore clandestina è giunto il momento di fare le opportune e giuste domande senza rettorica e restando con i piedi perfettamente saldi a terra. Nutrire speranze va benissimo, ma se non vi attivate subito per risolvere una questione importante, questa potrebbe complicarsi e crearvi problemi. Attenzione agli autovelox per chi viaggia. Divertimento, spensieratezza e cibi prelibati, ma anche spiritualità. Qualcuno si sente ferito da un vostro atteggiamento e cercherà di farvelo lotare in questo periodo. Vi conviene ravvedervi e avere un approccio diverso o onde evitare seccature che potrebbero essere così evidenti da danneggiarvi. Attenzione ai colpi di testa, questi potrebbero irritare la persona che amate che, anche se dovesse cedere alle vostre giustificazioni, tuttavia non sarà ben impressionato. Imparate ad essere più caute in amore. La fretta vi potrebbe spingere verso scelte sbagliate. Oggi potrebbero esserci contatti con persone molte devote o preti. Un amico ti racconterà cose particolari alle quali non vorresti credere. Pettegolezzi. Evento del solstizio d'estate che vede il passaggio del sole alle ore 22,52 dal segno dei gemelli a quello del cancro. Entrambi i segni sono vostri amici e in generale la giornata sarà serena, priva discosse di qualsiasi genere. La luna del giorno in sagittario nella vostra ottava casa ha poco da raccontarvi se non rimproverarvi delle spese che, dando retta a Giove munifico, e al sole che finora l'ha accompagnato avete effettuato fino a stasera, concludendo con una bella cenetta al ristorante. Avete ragione, è così che si celebra l'inizio dell'estate, in calendario esattamente alle 22.51 ora italiana, quando il sole lascerà l'amico Giove in gemelli per raggiungere Venere e Mercurio in cancro, segno acquatico e in sintonia col vostro, così come lo è Nettuno immaginifico in se stile. La terra del vostro segno ha bisogno di acqua che faccia fiorire. Ma anche del sole che porti a maturazione i frutti, quelli della natura insieme a quelli della mente e del cuore. E allora che l'estate sia benvenuta. Amore ed Eros. Papa e ciccia con tutti, il partner, gli amici, i vostri figli. Se ultimamente siete stati un po' nervosi, pronti al litigio, la pace torna a discendere nel cuore, come la colomba con l'olivo nel becco. Anche voi dunque potete uscire dall'arca e festeggiare questo momento magico in tessuto di emozioni, ispirazioni e dolci sentimenti. Se un nuovo amore bolle in pentola si dichiara, se avete una simpatia segreta qualcosa inizia a muoversi, come il pulcino che becchetta il guscio per uscire allo scoperto. Il sole porta a maturazione i frutti e anche i sogni che diventano realtà. Lavoro e denaro. Ottima intesa con i colleghi, vi sostenete a vicenda, insomma una mano lava l'altra. Se qualche pasticcetto inavvertitamente è stato fatto lo si ripara in tempo utile per non incorrere nelle solite urlate del vostro capo. Su di giri anche voi, con tutta la grinta necessaria per combattere e farvi valere, ma alla fine decidete che la rissa non conviene, meglio un dialogo sincero e chiarificatore che mette tutti d'accordo. Se questa non è saggezza. Compaiono nuove alleanze lavorative che ribadiscono la nuova fase della vostra attività professionale. Ma è come in questo momento comprendete la legge scientifica che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Benessere. La tensione nervosa e quel principio di emicrania che vi saluta al mattino e che rischia di conclamarsi se in azienda qualcosa non va, si placa magicamente grazie a un massaggio effettuato dal collega gentile che di queste cose se ne intende. Forse ha anche prana nelle mani, insieme ai problemi e ai timori se ne vanno così anche i malesseri. Basta rosso nel guardaroba, oggi ci vuole il giallo crema, colore del sole e della dolcezza che promette un'estate dolcissima. Denaro. Il vostro segno del toro è collegato con una splendida isola del Mediterraneo, Creta, patria del mitico Minotauro, creatura metà uomo e metà toro. Se volete spendere una somma per uno spostamento vacanziero, in base alle indicazioni zodiacali, se potete, sceglietela. Per lei, la vita spericolata non è nelle vostre corde, ma la vita delicata, coccolata, innamorata, quella sì. Incontro in vista, sarà un'estate da sogno. Per lui, identificandovi con il sole solstiziale aprite i cancelli alla nuova stagione e le braccia a un nuovo amore, a una speranza, alla magia del pensiero, capace di creare la realtà. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.